Grazie Valentina, buongiorno a tutti, io sono Francesco Ciani, sono assegnista per il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Firenze e dal 2020 mi sto occupando del progetto inclusivo, un progetto di cui parlerò tra poco. Ora prima di entrare nel dettaglio del progetto volevo spendere due parole sul protagonista, sull'oggetto della mia ricerca che è il mercurio, che cos'è il mercurio? Il mercurio è un elemento chimico che è naturalmente presente nella prosta terrestre, è un metallo pesante che ha la peculiarità di essere liquido a temperatura ambiente, si ritrova anche in atmosfera, emesso da un numero molto ampio di fonti, siano esse naturali che antropiche. Per farvi capire un pochino con quali valori ragioneremo nel corso della presentazione vi ho riportato dei valori di background qui in alto a destra, espressi come nanogrammi su metro cubo di aria. Ecco vediamo che in ambiente urbano come ad esempio in piazza San Marco nel centro storico di Firenze abbiamo valori inferiori ai 5 nanogrammi su metro cubo di aria, mentre invece questi valori nelle aree più densamente popolate industrializzate arrivano anche intorno ai 10-20 nanogrammi su metro cubo di aria, per arrivare a valori estremamente più elevati nelle aree minerarie dove in passato veniva estratto il mercurio nella forma di cinabro. Il mercurio nella forma elementare è estremamente volatile, estremamente biodisponibile per l'uomo, è inoltre estremamente bioaccumulabile e biomagnificabile, si accumula nella catena trofica. Sì, si perlello. Ecco, sì, meglio, grazie. Il mercurio è un elemento tossico per l'uomo, proprio per i suoi effetti clinici negativi sull'uomo, il suo impiego, l'estrazione e la commercializzazione è stata messa al bando da circa 20 anni. Allora, il problema del mercurio, diciamo la questione del mercurio, è strettamente connessa con la conservazione delle collezioni museali, in particolar modo con i reperti naturalistici delle collezioni dei musei di storia naturale. I reperti naturalistici devono far fronte a processi inevitabili di degradazione e di deterioramento che sono dovuti sia ad effetti, sia a fattori abiotici che a fattori biotici. Proprio per superare questa inevitabile degradazione, da metà del XVIII secolo fino all'inizio del Novecento all'incirca, veniva utilizzata una sostanza chiamata sublimato corrosivo, che è un bicloruro di mercurio, che veniva impiegato sui reperti naturalistici, siano essi riconducibili a collezioni zoologiche, antropologiche e in particolar modo reperti botanici, per evitare la degradazione di questi oggetti. In particolar modo il suo impiego dava degli ottimi effetti, effetto secondario e sicuramente non trascurabile, è quello di causare livelli di mercurio gassoso in ambienti museali abbastanza elevati. Questo si realizza in particolar modo negli erbari, quindi nelle sezioni di botanica dei musei di storia naturale. Ma che cosa è un erbario? Un erbario è una collezione di piante o di parti di esse, che vengono raccolte, seccate e catalogate con le informazioni specifiche del luogo e della specie dalla quale provengono. Sono collezioni che se conservate in modo adeguato, possono essere conservate per un tempo indeterminato e posseggono importanza da un punto di vista scientifico, da un punto di vista storico, ma rappresentano in particolar modo al giorno d'oggi delle banche dati della biodiversità e del patrimonio genetico ed ecologico che è legato a questi tipi di collezioni. Allora, per il mio progetto, per il museo, ho avuto la possibilità di lavorare nel bario centrale italiano, la sezione di botanica del sistema museale di Ateneo dell'Università degli Studi di Firenze. Siamo nel centro storico di Firenze, vicino a Piazza San Marco. Il museo di storia naturale è stato fondato nel 1774, ma la fondazione del bario centrale italiano successiva risale al 1842, per volere di Filippo Parlatore, che è stato il primo conservatore e primo direttore dell'erbario centrale italiano nella sua sede storica, che era quella della specola, prima che venisse trasferita nell'attuale sede, quella di Piazza San Marco. L'erbario centrale italiano è collocato su due piani dello stesso edificio. Al primo piano si trovano i locali che ospitano le collezioni aperte dell'erbario centrale italiano, ovvero le collezioni di piante o parti di esse che vengono costantemente aggiornate con nuove collezioni, quindi con nuove acquisizioni costantemente intercalate nelle collezioni invece più antiche. Attualmente l'erbario centrale italiano ospita quasi 5 milioni di campioni ed è di gran lunga il più grande in Italia e uno dei più importanti a livello mondiale. Questo per quanto riguarda il primo piano, mentre invece al secondo piano abbiamo le collezioni storiche, ovvero gli erbari storici non più intercalati da nuovi campioni, oltre alle collezioni storiche abbiamo tutta una serie di allestimenti di mobili antichi e coevi la data di fondazione dell'erbario, quindi tutti i mobili che posseggono un valore storico e artistico. Nei locali dell'erbario è stato effettuato un esteso monitoraggio delle differenti forme di mercurio qui presenti, differenziando il campionamento anche in base a quello che ci richiede la legge italiana, quindi andare a campionare sia le forme gassose sia quelle legate al particolato atmosferico. Molto velocemente qualche dato sul monitoraggio che è stato effettuato, vedete qui un grafico che ci fa vedere l'andamento delle concentrazioni di mercurio gassoso elementare in rosso, che posseguono nel corso dell'anno una spiccata stagionalità, quindi seguono in maniera abbastanza netta l'andamento delle temperature che si realizza nel corso dell'anno. Nell'immagine in basso vedete invece l'andamento delle concentrazioni durante il luglio 2020, nelle varie sale, un monitoraggio puntuale che è stato effettuato nelle varie sale. Allo stesso modo una netta stagionalità nelle concentrazioni di mercurio si realizza anche al secondo piano, più abbiamo di differente che invece le concentrazioni non sono omogenee, ma sono disomogenee e le concentrazioni più alte si raggiungono solamente in alcune sale del secondo piano. Il monitoraggio ha riguardato non solamente la parte gassosa del mercurio atmosferico, ma anche la parte legata al particolato atmosferico, l'analisi è stata svolta tramite microanalisi SEM e DS, e ci ha permesso di caratterizzare il particolato atmosferico contenente mercurio, sia da un punto di vista dimensionale che composizionale, quindi fare anche un'analisi chimica. Vedete qui delle immagini fatte al microscopio elettronico a scansione che ci fanno vedere appunto queste particelle di mercurio legate al particolato atmosferico. Il particolato atmosferico che è particolarmente piccolo, le differenti tipologie di polvere che si è stata campionata all'interno dell'erbario, ci ha mostrato che il particolato contenente mercurio è un particolato ultrafine, il cui diametro è inferiore ai 2.5 micrometri. La speciazione chimica di questo particolato ci ha fatto vedere che adesso il mercurio è legato allo zolfo, nella forma di solfuro di mercurio, e una forma che è molto poco biodisponibile per l'uomo. Il progetto ha riguardato non solamente un esteso monitoraggio, ma anche e soprattutto la ricerca di soluzioni per aumentare la fluibilità di questi locali di questa sezione museale. Allora, uno degli effetti maggiori sull'abbattimento delle concentrazioni di mercurio gasoso elementare si realizza tramite l'accensione dell'impianto di ventilazione che è presente al secondo piano dell'erbario. Come possiamo vedere da questo graffio che ci fa vedere nell'andamento nel corso di 24 ore registrato in una delle distanze, l'effetto dell'attivazione delle ventole che si realizza durante il periodo notturno è molto netto e soprattutto con un abbattimento molto regolare. Proprio la regolarità nell'abbattimento di queste concentrazioni ci ha dato la possibilità di teorizzare un modello matematico, un modello matematico che segue fedelmente la curva di abbattimento reale del mercurio gasoso elementare. Questo modello matematico ci permette, andando ad impostare delle concentrazioni registrate tramite il monitoraggio, a calcolare delle portate di funzionamento e dei tempi di funzionamento funzionali ad un abbattimento dentro delle concentrazioni di mercurio gasoso. Fondamentale l'attivizzazione di questo modello anche e soprattutto perché recentemente il sistema di ventole è stato attivato anche al primo piano oltre ad essere presente al secondo piano e questo potrà portare ad un ulteriore abbattimento, una messa in sicurezza di tutti i locali del museo. Il progetto è attualmente in corso e si sta occupando in particolar modo della caratterizzazione soprattutto del restauro degli armadi storici in legno, come vi dicevo prima, gli allestimenti originali dell'epra di fondazione del museo e prevederà appunto delle analisi in particolar modo su questi armadietti in modo da poter recuperare questi allestimenti storici. Io vi ringrazio, ho concluso. Posso dire solo una cosa, appunto l'erbario centrale italiano costituisce un caso studio emblematico, il sublimato di mercurio è stato applicato universalmente in tutti gli erbari mondiali, anzi Firenze è stato tra i primi a smetterlo, non perché non fosse efficace ma perché ci si era resi conto che insomma potesse avere degli effetti collaterali, quindi è un progetto che è esportabile in più ambiti, a livello non soltanto italiano ma sicuramente a livello internazionale, quindi abbiamo avuto anche insomma dei contatti da parte di ricercatori più che altro inglesi per capire come anche alcune collezioni delle università appunto della Gran Bretagna potessero essere impattate perché è noto che sia un problema comune, quindi diciamo che l'erbario centrale italiano costituisce un esempio molto virtuoso per poi dare un avvio, speriamo, a ricerche anche in altri ambiti proprio perché è un problema che poi può essere gestito molto bene ma che riguarda, non è focalizzato soltanto alla nostra realtà vicina ma è su larghissima scala. Grazie